La festa della Repubblica non è solo una cerimonia formale con l'alza bandiera, viene celebrata tutto l'anno da coloro che fanno il proprio dovere, soprattutto nei confronti di chi ha più bisogno. Oggi ho voluto ricordare anche la necessità che la Costituzione divenga effettiva, citando le difficoltà di vita non solo dei nostri fratelli e sorelle dell'Emilia Romagna, ma anche di tutti coloro che soffrono, non hanno lavoro e non riescono ad avere una vita dignitosa e felice. Ecco, questa è la festa della Repubblica, un nuovo giuramento sulla Costituzione e sulla nostra volontà di far vivere al meglio tutta la nostra Repubblica, non solo coloro che stanno bene e che non hanno bisogno di nulla, ma quelli che hanno bisogno dello Stato e della Repubblica.